andiamo avanti andiamo nella best caverna ma basta questa best caverna altri posti ci sono gli esseri piccoli ci sono il tuo pisello ma che senso ha questa battuta del manga che hai il pisello piccolo ti piacerebbe no no me l'ha detto gioco sì sì ciao ciao perché volevo regalarti delle cose sono caduta fuori dalla mappa quanto sei scarso no è caso io non posso perdere il mio m60 non se ne parla il mio m60 ci tengo tantissimo sono affezionato all m60 va bene ragazzi dopo questa lunga lista di fail visto che nebbia mi devi fare continuare per forza io chiudo veramente ma no ma no ma non ha senso ma non ha senso ma assolutamente sì ma non ha senso vabbè comunque se il video vi è piaciuto vi ricordo non mi piace no non ha senso ragazzi ma perché no perché no nebbia non ho messo il timer il timer cos'è una nuova attrezzatura militare il timer è un misto il timer non so quanto sono nebbia non ho messo il crammer contro crammer non ho messo il timer lo devo interrompere va bene ah no dai ma sei a una ventina di minuti ma niente di più vabbè andiamo agli avanti no fermati dai che palle mi fermo dai allora ragazzotti no vai avanti scusa ma hai rotto le palle non lo faccio pure ma ma vai avanti scusa eh vabbè vado avanti allora riaffrontiamo il maghezzo di merda sei una brutta persona perché? eh perché dai smetti dai 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 no ormai sto affrontando il magno No, no, adesso smetti No, adesso smetti, dai Sì, sì, sto smettendo Oh, smess Dai, smess No, vai avanti Allora Andiamo a riaffrontare la creatura orribile Ah, ma allora non avevi smesso Assolutamente no, ti ho fatto un troll Dai, vai avanti Non ci è creduto nessuno Guarda, infatti ci ho creduto tantissimo Uh, il best troll forever and ever Allora, vedi di morire, vedi di morire, vedi di morire, vedi di morire, vedi di morire Peppe Eh? Diventa un video lunghissimo, smettila Eh, poi lo taglio, non ti preoccupa No, no, è diviso in due parti, ma Dai, smettila, taglia qua Vabbè, intanto ho fatto esplodere la best credenza Dai, taglia qua, veloce No, perché tu tanto poi mi dici di continuare Mi... Peppe deve uscire, taglia veloce Vabbè, sto tagliando, dai Eh Fammi salire la scala e taglio No Sì, la ho usato di chiedere questa parte Allora Al... in cima alla scala ragazzotti a questo punto Visto che nebbia... Ah, ci sei arrivato Sì Eh... A questo punto Allora vai avanti, scusa Non dovevi uscire Ah già Ecco Però... boh, non lo so Vai avanti? No A questo punto ragazzi Sei sicuro? Sì Se il video vi è piaciuto Vabbè Bello Bene Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace Se il video non vi è piaciuto Peccato Mettete un mi piace lo stesso O se mettete un mi piace Dateci una spiegazione logica Possibilmente Ovviamente vi ricordo di iscriversi al nostro canale Twitch No, ma se vuoi fare tutto tu, eh Vi ricordo di iscriverti al nostro canale Twitch Eh, no, fai tutto tu Già che ci sei tanto Dai Eh, no, no Va bene, va bene Dai, vai, vai Canale Twitch No, no Vai, vai, vai Ai canali sottostanti Vai avanti Nebbia È morto Nebbia Eh Ai canali sottostanti Tanti Sottospochi Pochi Vabbè Si finisce il 2014 con il botto Che battute Vabbè sto battuta è Che belle battute Le battute di nebbia Yeah E quando avrò Quella cosa lì Vedrai che potrò fartene anche in tempo reale giocando Esattamente Saranno cacchi tuoi Quindi ragazzotti Ovviamente vi ricordo di scaricarvi No, rifalla, rifalla Si Vi ricordo di scaricarvi la nostra applicazione Sia Chrome che per fare Via Chrome che per fare Firefox E quindi ragazzotti Perché vai così Perché sono stanco Ah Ma sa che siamo solo all'inito Sono Peppe Non sono me Io non ho più parole Sono Peppe Non sono nebbia E quindi Ciao a tutti ragazzi No aspetta Ma non dovevi dire Lo faccio una volta solo No vabbè ragazzi Siamo Non sopporto più Non ti sopporto più Guarda Non ti sopporto davvero più Non mi fai concentrare Ti sconcentro Che poi sconcentro Non si dice mai nel mondo Vabbè E quindi ragazzotti A questo punto Sono Peppe Non sono nebbia E quindi lo faccio Una volta solo Ciao a tutti ragazzi Ma sai che stavo pensando Effettivamente a una cosa Cioè tu continui a dire Lo faccio una volta sola Ma in effetti Che cosa? Cioè io lo dico Tu non lo dici eh L'outro Faccio una volta solo Sì ma non è sottinteso Magari un nuovo iscritto Che non ci conosce Non lo sa Quindi Per favore Anche tu sostieni La mia campagna Nebbia Smetti la franza Che non vuole fare l'outro Ma veramente Il video è tuo Quindi sei tu Che non la vuoi fare l'outro Io nei miei video Dona anche tu Un euro Al povero Peppe Fallo Ma guarda che barbone Dona anche tu Un euro al povero Peppe Donate una sberla Al povero Peppe E quindi ragazzotti Finiamo lo babbio Sono Peppe Non sono nebbia Quindi lo faccio una volta sola Ciao a tutti ragazzi Peppe ti ho appena detto Che cosa fai una volta sola Cambia Non si capisce Il nuovo iscritto Non lo capisce Lo mette in difficoltà Non si iscrive E noi perdiamo iscritti E poi io non posso più rispondere ai commenti Sei una persona orribile Allora Sono Peppe Non sono nebbia Faccio la outro Una volta sola E quindi Ciao a tutti ragazzi Guarda che non sono sceglie Faccio la outro Faccio la outro La prossima volta Fai anche il gesto Con le dita vicino alla bocca Faccio la outro Lì abbiamo i sentiti a dividere il video Eh va bene Lo faccio solo Lo taglio No no Allora smettila No no Quanto siamo? Quanti minuti siamo? Non lo so Non c'ho il tempo Eh vabbè dai Il secondo video Sarà solo di altro Dai Sì 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 Dai ragazzotti A questo punto Sono Peppe Non sono nebbia Aspetta ma te la prendi Con gli iscritti Dai ragazzotti Dai ragazzotti Cosa hanno fatto loro? Ma cosa ti hanno fatto di male? Scusate ragazzotti Oh ma te la prendi con gli iscritti Ma sei scemo Ma io voglio un po' di Mi pregoci Ma su questo Guarda Basta che vai a Capodanno a Palermo E ti prendi una schioppettata Un razzo in faccia Ci sono tanti modi Te lo assicuro Rilassiamoci Con parole Si bravo Usa il karma Usa il karma Allora Vai 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 Sono Peppe Ispira Dai Ispira Ispira Viene il quarto dono di auto Bello Bello Così lo intitoli L'auto più bella del mondo Ah sì 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 è c'è un tempo Te lo dico Peppe Sono cazzito No no Peppe Non sono me Hai detto sono nebbia? Non mi risulta Peppe Non si sa che cos'è però è morto Il dubbio un po' è morto Allora Sì sì Non ci riesco più Non ci riesco Peppe Molto sola Ragazzi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Aspetta un attimo, aspetta un attimo PANDEE PANDEE Oh dimmi dimmi Cioè mi aiuti a far fare una outro a Peppe? Ok vai Siamo in video è un quarto d'ora che sta cercando di fare outro Cosa state recazziando? Ma è magica Magica perfetto Perfetto quindi St'altro ha voluto fare si o no? Veramente lui non me la fa fare Io avrei chiuso il video un quarto d'ora fa Ma non è vero mai Ma è benissimo Ho capito com'è la situazione qui Eh vabbè tre facciamo questo outro però prima di fare l'outro Nebbia ma che hai mangiato oggi? Non lo so Axel Axel ma mi spieghi perché Mi spieghi perché Peppe non vuole fare le outro Aspetta 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 Oddio oddio Dove sono? Oddio 20 persone in un video Si Mi spieghi perché non vuole fare le outro Peppe Eh non lo so Perché Perché è pazzo Cioè io veramente è una cosa che non mi spieghi E' una cattiva persona Aspetta Ragazzi 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 No 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 Ho chiuso No lo devi fare bene lo riapri Devi farmi la domanda No no l'hai riaperto vero? Peppe Non l'hai chiuso Peppe non l'hai chiuso non mi trollare non l'hai chiuso perché stai ridendo dal nervoso Allora Allora E' un quarto d'ora di video Solo un altro Benissimo siccome siamo tutti qui oramai Allora innanzitutto Visto che c'è Axel iscrivetevi al canale di Axel C'è Pandè Auguri Pandè che è entrato nella partner Secondo Poi auguri a Klax che mi ha fatto trovare Neuer Grazie Donatemi un euro ogni volta che non mi farò l'altro sarei miliardario Ma scusa eh Ma scusa eh Ma ti pare il caso? Sei maleducato Che schifo Peppe E che diamine Ma è bene comunque la faccio adesso non la faccio mai più No aspetta Aspetta Ma che modo di fare è? No che modo di fare è? Non mi piace no non è giusto Ma non mi piace che cosa E via diglielo Non è modo di fare giusto E cosa sarebbe il modo giusto? Beh con calma E per piacere Allora Allora con calma No che ho fa 80 persone 80 persone in un video No Ci sono anche fuoco e da Dani adesso che te lo dicono anche loro che sono server admin Lui La festa E' una festa in un video Lo intitolerò l'outro più lungo del mondo E' una festa per... E' una festa per fare l'outro a... Allora ragazzi ma io non riesco a fare un'outro a Peppe Perchè Perchè E' sempre lì che perde tempo Dada Dini qualcosa Che ti fai io? Che ti fai l'outro che? Che? Quello è uscito dal mondo dai sogni adesso Deve chiudere un video Eh un'uscita video? E io non so che io sono anni e mezzo Sto qua dentro non sono ste cose Cosa Grazie Grazie Nel frattempo Ora fanno i cazzi loro Noi non lo vedrete mai Comunque Un video Perchè Peppe non vuole fare l'outro? Me lo spieghi? Che? Perchè Peppe non vuole fare l'outro? Dai tutti insieme Tutti insieme Peppe Allora Tutti in coro Peppe fai l'outro dai Peppe fai l'outro 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 Peppe dai Non è difficile Non è difficile Non è che stiamo cazzezzaggiando Eh Fai st'outro? Dai Che gente ha da lavorare? Cioè Non c'è tempo da vende Peppe una mossa su Dai Ecco per mapparla su Dai Peppe dai Ti bannano eh Channel switched Allora Ragazzi Peppe fai l'outro Peppe fai l'outro Allora A questo punto Posso? Ehi guarda Con calma Visto che ci siamo tutti A questo punto ragazzotti Sono Peppe non sono nebbia E faccio l'outro Per l'ultima volta Ma adesso No Vedi che ti poni male Devi spiegare Siamo in stanza C'è tanta gente Ci siamo divertiti Faccio l'outro Perché siamo a fine video Eh E poi la fai E poi la fai Ma che sta male Ma che sta male a casa Nooo Ma che cazzo Da Dani Da Dani Sei su YouTube Cazzo Pia lì Wow Mi sono accorto dopo Un'ora e mezza qua dentro Dai Quindi Aspetta aspetta Allora rifacciamo La rifaccio veloce Allora Noemi Pronta eh Ti sei esercitata No no Se il video vi è piaciuto No 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 Fai te No Noemi Muoviti Dai Se il video vi è piaciuto No non sei esercitata Eh fallo lo stesso dai Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Minchia che ansia però Se non vi è piaciuto Mamma mia Mettete lo stesso video eh No ma Chiara Lo fa meglio Ricordatevi Ricordatevi di commentare Condividere Iscrivervi ai canali Anche di quello di fuoco Che è qua oramai Quella Eh Quello di Axel A quello di Pande E Peppe Posso? Ah ciao Posso? Posso? Sono autorizzato Ma se hai voglia Sai stiamo aspettando te Va bene ragazzo A questo punto Sono Peppe Non sono nebbia E quindi faccio l'outro Si spera per l'ultima volta Ciao a tutti ragazzi Nebbia Buongiorno a tutti Giorgi Buongiorno a tutti Giorgi Dove? Nebbia Nebbia Dove? Nebbia Nebbia Dove? Vabbè Ciao a tutti ragazzi Buongiorno a tutti Giorgi E buon merito a tutti gli altri Un saluto E al prossimo video Ciao 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 No, no, no